salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale bentornati qui su snow runner continuiamo la nostra serie di missioni qui in alaska però prima di entrare nel vivo volevo chiedere a domenico che mi aveva scritto un commento nel precedente episodio di utilizzare un altro camion nello specifico il white western star se non ricordo male il problema è che non sono riuscito a trovarlo nei nei vari garage nella nella mappa quindi non vorrei che o l'ho venduto o che caspira sia successo perché ho visto anche che nel negozio provandolo proprio ad acquistarlo non mi dà la possibilità di farlo mi dice come se non l'avessi ancora sbloccato siccome mi avevi scritto che effettivamente lo avevo fatto se magari mi puoi rinfrescare un po la memoria cerco di capire dove effettivamente dovrebbe stare e il perché ora non è più presente tra i miei mezzi quindi se puoi farmelo sapere mi aiuteresti non poco allora entriamo appunto come dicevo nel vivo ci facciamo la missione di fornimento trivella che ci porta al porto scusate il gioco di parole e al magazzino per recuperare dei contiene di carico e dei tubi medi da portare al sito di trivellazione che ci siamo già stati una volta e sappiamo che insomma non è proprio ottima la strada per arrivare da questa parte quindi faticheremo non poco però iniziamo ad avviarci intanto utilizziamo per il momento il nostro bandit e poi vediamo insomma in attesa di scoprire qualche alternativa interessante tra l'altro visto che tra una cosa e l'altra sono arrivato a livello 13 generale dovrei poter montare ora le gomme da neve non l'ho fatto per ora poi lo farò insomma non c'è fretta però se non ricordo male il limite era livello 12 quindi l'abbiamo abbondantemente superato e allora ci dirigiamo giù al porto come ho detto ci carichiamo questa roba i container non mi ricordo se spero che più che altro basti lo spazio sul pianale che già insomma contiene di carico e se insomma dovesse bastare dovremmo fare sicuramente dei doppi viaggi non possiamo con un solo giretto andare a recuperare tutto e portarlo al sito di di tripellazione tanto ovunque più o meno diciamo che è di strada e possiamo permetterci di eventualmente fare due giri il problema come vi ho detto è il raggiungere quella occhio quel posto perché appunto un po' fuori mano insomma ha delle strade un po' difficoltose l'ultima volta ci abbiamo speso un po' di tempo per arrivarci però ci si fa tutto si riesce solo un po' di pazienza allora io sto andando un po' a memoria ma credo che sia corretta la strada si è tutta è tutta uh vada ragazzo stenda è tutta dritta quindi non ci possiamo sbagliare da questo punto di vista ok siamo diciamo ritornati indietro alla mappa del porto dopo aver sbloccato anche la valle e mi devo ricordare anche di andare a liberare il passaggio che lega il porto con la valle perché c'era appunto la missione che era bloccato da dei massi di pietra quindi dobbiamo andare a farla così se dobbiamo ripassare tra le due regioni non dobbiamo utilizzare quella intermedia ma andiamo direttamente è comoda anche nel caso in cui dovessimo andare a recuperare dei mezzi perché abbiamo scoperto appunto che c'è il garage anche alla valle però dobbiamo prima farli diciamo depositare all'interno del garage per potergli poi permettere successivamente quando andiamo a recuperare che vadano nel nuovo garage altrimenti vanno sempre in quello vecchio quindi dobbiamo fare un po' sti giretti per sbloccare un po' di cose allora siamo arrivati nella zona di carico ok contenere di carico appunto ci occupa tutto il pianale quindi come sospettavamo non possiamo fare altro quindi ci ora dirigiamo verso vediamo un attimo una strada però verso la zona di scarico quindi il sito di preparazione il magazzino è anche qua quindi non c'è bisogno di arrivare fin laggiù non l'avevo visto quindi è ancora più vicino rispetto a dove dobbiamo andare allora qua c'è una stradina ma forse è meglio di no perché insomma era un po' così questa che cazzo è una missione contenere di carico vabbè ci dirigiamo fino all'altra biforcazione perché dobbiamo per forza di cose arrivace quindi vuoi non vuoi dobbiamo arrivare lì l'altra strada diciamo l'altra scorciatoia non è poi il top e quindi conviene non farla assolutamente ok per il momento il camera si sta comportando in maniera ottima stiamo andando belli spediti di quinta marcia traballa un pochetto ma insomma se la sta cavando in maniera più che dignitosa allora siamo subito arrivati qua alla biforcazione ci spostiamo qua sulla sinistra ora c'è un pezzo un po' innevato che ci mette sempre un po' in crisi ora maggior ragione siamo anche abbastanza carichi quindi qua è sempre un po' un casotto andiamo di ridotti così evitiamo anche di andare a magari sprecare troppa benzina magari utilizziamo anche il vericello cerchiamo di non cappottarci perché insomma abbiamo comunque un carico abbastanza alto insomma vedete che potrebbe andarci a sbilanciare allora vediamo un attimo perché non ho visto poi dove dovevamo girare allora giriamo qui a sinistra e si ok giriamo a sinistra poi abbiamo delle alternative in verità mi ricordo che siamo andati da questa parte l'altra volta perché questa qui che si intravede tra gli alberi è un po' piccina però questa è una gran rottura di scala perché era comunque bagnato insomma però non ci sono alternative se non fare giri molto più lunghi quindi non è proprio il caso allora quindi sinistra abbiamo detto e poi qua gireremo a destra ok perfetto passiamo a togliere le ridotte perché altrimenti ci perdiamo un po' troppo tempo ok cerchiamo di non andare come sempre dove si sono già stati fatti disuolchi altrimenti rischiamo di rimanerci abbattanati comunque ribadisco insomma il camion è assolutamente ottimo qua c'è anche la stazione di rifornimento però insomma stiamo ancora bene per quanto riguarda la benzina spero di non pentirmene questa cosa le brutte abbiamo le tanniche sopra sopra la cabina che possiamo eventualmente andare ad utilizzare dicevo comunque non è non è male il camion bisogna un po' capirlo questo diciamo effetto molleggiato aiuta però perché comunque sia vedete essendo separato la cabina il pianale aiuta un po' a stabilizzare il tutto e non va a scombinare anche tutto il resto del camion dall'altra parte però può creare i problemi perché appunto potrebbe una parte del camion andare troppo troppo verso inclinarsi troppo verso verso sinistra e ci porta poi a ribaltarci quindi come tutte le cose un'arma a doppio taglio che ho qua così ok stiamo andando decisamente spediti problema che arriveremo qua e sarà un casino infatti già rallentiamo teniamoci sulla destra perché ci sono perlomeno degli alberi che possono darci supporto eventualmente non andiamo troppo ad inclinarci perché come detto prima avendoci comunque un carico abbastanza alto beh direi che stiamo andando decisamente meglio c'è da dire che l'altra volta ci eravamo portati dietro il rimorchio se non ricordo male quindi quello non avendo motricità e non avendo assolutamente ruota adatte alla situazione ci facevano un poco da da zavorra allora qui proseguiamo verso sinistra e poi lungo la strada fin dove arriviamo al sito di trivelazione questa qui che incrociamo a destra dall'altra scorciatoia che vi avevo fatto vedere prima in mezzo alle piante però mi sembra un po' troppo strettina per un camion del genere quindi non era proprio il caso qui aiutiamoci un po' con il vericello perché la salitella qui sulla neve è sempre un po' complicata ok così vai così perfetto andiamo oh ho sbagliato tasto eh la clacsonata tattica ogni tanto me 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 scappa per forza no volevo mettere in verità cazzarola si cambia sto rincoglionendo volevo cambiare oh inquadratura porca soia le stavo a prova a tutti i testi non mi ricordavo non la vedo molto insomma all'interno quindi non è male anche perché insomma dobbiamo andare dritti ci può ci può anche stare una telecamera interna tra l'altro ora la cosa buona è che va a seguire un po' la la curva vada la curva e quindi tende insomma a prenderci lui la parte a seguire come va la curva quindi la telecamera gira verso sinistra e destra seguendo o le ruote insomma o tutto quanto e quello ci aiuta perché non devo muoverla io in maniera manuale come se diciamo vado a simulare la la testa dell'autista diciamo che va a muoversi seguendo insomma la curva però non è non è affatto male è l'effetto decisamente meglio riuscito rispetto a quello che c'è in turist bus simulato che è troppo lento e macchinoso insomma a parte che vabbè oddio per quanto riguarda gli ingombri beh insomma pure questo mi sembra anche abbastanza che cazzo è dietro ah una giacca cazzo pensavo se fosse uno morto dietro che lo so vedevo una testa invece una giacca appesa vabbè dicevo comunque vabbè gli ingombri anche questo è decisamente largo quindi uguale a un autobus non più largo insomma però ripeto il movimento della telecamera in modalità ecco soggettiva è decisamente meglio riuscito rispetto a turist bus comunque ridendo e scherzando siamo arrivati al primo punto togliamo le ridotte magari andiamo pure più velocini siamo arrivati al primo punto di scarico e quindi possiamo lasciare i container di carico ok container di carico perfetto quindi ora direi intanto che ci possiamo magari salutare qui così facciamo un episodio più corto dobbiamo ora tornare indietro in verità perché dobbiamo arrivare qua al magazzino l'altro è qua però è decisamente più lontano quindi ci facciamo la stata ridosa e torniamo qui al magazzino per recuperare i tubi medi che ci servono allora ragazzi che dirvi io come sempre vi ringrazio della visione vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ragazzi è importante per il supporto al canale non costa niente in basso c'è il tasto iscriviti come sempre in descrizione trovate i link a tutti i social network e in alto a destra c'è la i che vi riporta alla playlist del titolo se avete perso qualche appuntamento di nuovo vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao